Festa australiana ieri sera a Nichelino, due passi da Torino per l'apertura del nuovo centro Ducati. L'ospite d'eccezione era Casey Stoner, che grazie allo sponsor Shell ha presenziato l'avvenimento. Folla di curiosi tifosi per il nuovo campione mondiale con la faccia da bambino e per le rosse due ruote. Visibilmente emozionato, ecco quanto ha dichiarato Stoner ai nostri microfoni. Casey Stoner, dopo un'annata fantastica lo scorso anno, sono già iniziati i test della nuova stagione come stanno andando? Sì, i test sono andati benissimo, abbiamo apportato delle modifiche e in pista siamo andati molto veloci. Io penso che gli altri team si stiano migliorando per essere competitivi nella prossima stagione, ma noi siamo già veloci. Cos'è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Non sappiamo ancora quali saranno le modifiche da apportare per la prossima stagione, attendiamo di vedere i risultati del prossimo test in quanto non è cambiato molto dall'ultima prova. Stiamo aspettando. Ciao. Scriviti al vostro Grazie a tutti